Giovanni Totti si sarebbe ripesso oggi 26 luglio 2024 da governatore, quindi da presidente della regione Liguria. Sarebbe arrivato dunque l'annuncio e lui stesso avrebbe dichiarato un lascio una regione in ordine. Si riferisce ovviamente alla regione che per molti anni ha amministrato, ossia però la regione Liguria. Dimissioni dunque per costui, secondo il più, sarebbe stato vinto dai giudici, ma comunque lui avrebbe fatto sapere che si va ad assumere, diciamo così, la responsabilità di chiamare le urne cittadini nei prossimi tre mesi. Infatti vi ricordo che entro tre, ripeto sotto, entro tre mesi vorranno indette nuove elezioni. Comunque sarebbe stata pubblicata anche una lettera dove viene riportato appunto il fatto che sarebbe pronto a lasciare da presidente della giunta regionale Liguria di quanto diventato ormai ex presidente della regione in quest'ora, va bene? E poi in 90 giorni per le nuove elezioni politiche in Liguria. Bene, grazie a tutti, il video del video è qua, iscrivetevi, commentate e un'abbonazione da qui. Questo video non vuole vedere la parola di Giovanni Totti, ottimo presidente, ma solo informare Stotti nasce per questo motivo, non per altri motivi. Ciao a tutti.